Vi volevo dire questa cosa, questa mattina sono stata contattata da un'agenzia di produzione televisiva, di risorse artistiche eccetera, chiedendomi la possibilità di tornare in tv. Ne approfitto visto che voi, ogni giorno ricevo la domanda di qualcuno di voi che mi scrive, Sonia ma perché non torno in tv? Il perché, ho cercato di spiegarlo più volte in questi anni, ho ricevuto delle proposte anche carine e interessanti, ma io ho impegnato gran parte della mia vita in tv e poi ho scoperto l'arte, poi l'accademia del benessere e poi lo sport, i social, la famiglia eccetera, quindi insomma valuterò, però insomma devo dire che mi dispiacerebbe al momento lasciare la vita mia che sto conducendo in questi ultimi anni, però insomma voi che cosa dite, che cosa ne pensate? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.